bella raga salutate pure voi dai forza matilda saluta bella raga eppure come te chiamate che non mi ricordo dai si sono inventati i nomi allora oggi facciamo uno spacchettamento molto bimbo bip di uno slime che mi ha mandato un'azienda vi metto il link nell'info box mi pare che costi 13,90 sono due quattro sei otto macarons con gli slime adesso le due assistenti andranno ad aprire della che ho lavato lo scotch forza matilda e michelle potete romperlo ovviamente poi li regalo io mi tengo i macarons infatti ci sono questi che vanno attaccati proprio sui maccheroni che so che l'adesivo c'è un adesivo no si attaccano qua vabbè apriamo questi slime dai su 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 ragazzo dai michelle corriti che è schifo mi posso sentire l'odore scusate ma profuma profuma di detersivo ah sono fatti contentissimo ah sono fatti contentissimo ok dai aprite anche gli altri se lo facciamo li dobbiamo far vedere tutti eh dai tu apri questi intanti anche ok ah sono sotto questi sono tutti sotto ah ok io sto aprendo questo ok praticamente il colore del maccherone e anche il colore dello slime per un ora ma guarda come fatto ma come fate c'è questa rotta e sonda ecco dentro eh ma quelli li vorrete nel cuore perchè tanto io mi porto il mio contenitore e vi lascio quelle schifezze eh che bello quello lì là si ma adesso devo assoluti rifiuti qua vabbè dopo questo c'è i brillantini c'è i brillantini quello no ma non so si 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 ma non so tossicisti questo verde ma è muco è muco è muco bello questo ci vuole ah volevo anche dire che costano 13,99 con l'aspirizione compresa se avete prime su Amazon ovviamente a me l'hanno inviato in collaborazione e dovevo farli vedere in un video ok ne abbiamo aperti tutti con i brillantini c'è solo quello viola si ma pensate che tirpio ha oggi comunque questo era lo spacchettamento io Matilda e Michelle c'è anche qua una donna che c'è anche una donna qui stasera chantal io come mi chiamo charonda come Armando vabbè salutate ciao a tutti bella regà ciao 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 oh 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 Grazie a tutti.